I carabinieri di Montale, in provincia di Pistoia, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione con la persona offesa nei confronti di tre cittadini pakistani, tutti residenti ad Aliana, in provincia di Pistoia, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti di una giovane connazionale giunta in Italia nel settembre del 2021, con la quale uno dei tre aveva contratto matrimonio. L'attività investigativa condotta dai militari dell'arma e diretta dalla procura della Repubblica di Pistoia è nata da una segnalazione pervenuta al 112 nel pomeriggio del 26 gennaio scorso da parte della vittima che si era limitata a fornire all'operatore l'indirizzo della propria abitazione in lingua inglese, interrompendo immediatamente la conversazione. I militari, dopo aver individuato l'abitazione dalla quale era giunta quella strana richiesta di soccorso, facendo un sopralluogo all'interno dello stabile, hanno riscontrato la presenza di una famiglia numerosa di origine pakistana, tra le quali vi era anche una giovane donna di 24 anni. I carabinieri, intuendo che la stessa era l'autrice della telefonata, l'hanno prelevata dall'abitazione, portandola in caserma, fingendo con i familiari che si trattava di un normale approfondimento sui documenti personali in suo possesso. In un ambiente finalmente più sereno, la giovane straniera, alla presenza di personale sanitario, immediatamente avvisato, ha confermato di vivere, sin dal suo arrivo in Italia, in una condizione di costante maltrattamento e violenza, anche di carattere sessuale ad opera del marito. Atteggiamenti che, secondo quanto appurato dagli investigatori, erano sostenuti fattivamente dai familiari ed in particolare dai genitori del marito, anch'essi destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale.